e dopo attimi di confusione generale per decidere cosa accattare ce l'abbiamo fatta ma siamo con i compagni di loro carichissimi cena di classe 1974 e non sentirli 18 più IVA perché siamo in Italia e l'IVA è andata alle stelle quindi è giusto dai mamma mia sono ancora gnocchissime chi non farebbe un giro di giostra con queste bellezze bene signore e signori ma e già 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 si vede allora da dove venite nominiamo un portavoce lei la bionda centrale ciao ciao come ti chiami da dove vieni e festeggiate e allora detto tutto ciò allora carrellata di nomi dalla destra del teleschermo ciao tu sei con non poteva mancare e abbiamo anche si è con e bene signori e signori eccoci qua vi avete deciso di cantarci una canzone bellissima aspetta Occio è buona e guarda che se lo tocca oh 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 bestia testina di vitello allora bene dopo che abbiamo avuto una tentata in incursione ma è con voi almeno ha pure sta testa di allora bene signori e signori avete deciso di cantarci una canzone bellissima di Vasco e noi vogliamo sentire la vostra voce grazie a tutti Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.